Ero impaziente di conoscerlo, Ispettore Derrick. Piacere, Jagella. Ah, è lei Derrick. Lei non mi conosce, ma io la conosco bene. Di fama, ben inteso. Se non ho capito male, si tratta della signora Rohner. Infatti. Bene, un momento, vado a prendere il dossier. Vorrei chiedere subito una cosa. Questa agenzia è nota per la sua discrezione. Normalmente non consentiamo a nessuno di accedere ai nostri archivi, nemmeno alla polizia. È una regola alla quale ci siamo sempre attenuti scrupolosamente. Ed è solamente in considerazione del fatto che questi documenti forse contribuiranno alla cattura di un assassino che verrò meno a tale regola, consentendovi di prendermi visione. Prego. Molte grazie. Jagella, non giochi al piccolo film in Marlowe. Lei è obbligato a mostrarci qualunque cosa che venga richiesta. Qui siamo in Germania, non è un telefono americano, è chiaro.